Per attraversare il lago di Garda per il lungo e a nuoto ci vuole allenamento, così Virginia Tortella ha cominciato, o meglio comincerà, ad attraversare i laghi di quattro regioni italiane, da quello più freddo a quello più lungo, per sostenere le diverse associazioni del territorio e in particolare l'associazione bambino emopatico oncologico. Si tratta della prima parte di un progetto che si concluderà con la traversata del lago di Garda per il lungo il 2 ottobre del 2020. Virginia lo scorso settembre aveva attraversato il lago dalla sponda bresciana a quella veronese riuscendo a raccogliere quasi 9.000 euro grazie alla vendita di magliette e cappellini. E ora è tutto pronto per la prima attraversata del 25 maggio che vedrà Virginia impegnata nel lago di Endine, nel Bergamasco. Il 25 maggio, il lago di Endine, corto, 7 chilometri ma freddo, 12 gradi, impegnativo, perciò ci sarà uno studio anche sull'acqua, sul territorio nuovo e sulla temperatura per non andare in ipotermia. Un allenamento molto particolare, molto speciale. Poi ci sarà il 10 agosto il lago di Caldonazzo, Trentino Alto Adige, meraviglioso di notte. Faremo un'andata e ritorno perché se no sono solo 5 chilometri perciò arriviamo a 10 con le stelle perché sarà la notte in San Lorenzo, perciò sarà magica. Poi faremo il lago d'Orta a settembre, il lago d'Orta è in Piemonte, l'unico lago italiano con l'emmissario a nord, anche questa sarà una particolarità, ventoso diviso nord e sud da venti e correnti, come il nostro lago di Garda, un pochino, 14 chilometri. Poi ad ottobre faremo il lago di Bracciano, Roma e ogni lago sarà dedicato ad un'associazione diversa. È chiaro che il progetto nell'insieme sarà dedicato ad Abeo, associazione bambino emopatico oncologico, per la riqualificazione di Villa Fantelli che è un edificio all'interno dell'ospedale Borgo Trento. Però ogni associazione sarà aiutata, sarà un bel progetto, statemi vicini, faremo delle magliette che naturalmente venderemo, ricavato andrà alle associazioni, ma sarà davvero un percorso interessante perché ogni lago ha una sua particolarità ed ogni lago mi darà qualcosa di nuovo e creerà contatti nuovi perché conosceremo persone nuove, associazioni nuove, molto molto bello.